Sinceramente non mi preoccupavo neanche prima, perché molti dei gol che abbiamo subito li abbiamo subiti su palla inattiva e non a livello di azione. No, ci siamo allenati come sempre. Semplicemente poi c'era il periodo che il primo tiro in porta prendevi gol e magari adesso sabato il primo tiro in porta Bardi ha fatto una gran parata. Quindi dipende, ci sono anche vari momenti della stagione. Poi noi tutti gli allenamenti ci alleniamo sempre con il mister sulla fase difensiva, quindi non è cambiato nulla. Semplicemente ci sono momenti in cui, come ho detto, il primo tiro prendi gol e altri in cui magari ti fa la parata o tira un fuori oppure concedi meno. Però sicuramente è più alta l'attenzione, quello sicuro. Secondo me a livello di singoli ti posso dire che forse è la più forte da Serie B, a livello di singoli. Noi andremo lì, sicuramente ci sarà un clima ostico, ma penso che se incominciamo a fare la nostra partita bisogna far sì che loro vada in difficoltà. Ottimi giocatori, hanno giocatori che sono stati anche parecchi anni in Serie A, quindi secondo me è una squadra tosta da affrontare, però penso che noi con il gruppo e con le individualità nostre possiamo fare una gran partita.